Ed Sheeran Live a casa tua, Ed Sheeran Exclusive Showcase. Queste le due iniziative che Team Music, in collaborazione con Warner Music Italia, ha lanciato in occasione della visita in Italia del giovane artista inglese. Perché Ed Sheeran dovrebbe scegliere te? Questo, il fulcro intorno al quale è stata costruita la meccanica di ingaggio dei fan dell'artista per l'evento Ed Sheeran Live a casa tua. Ho scoperto di questo gioco tramite Facebook, è stato linkato da amici e poi tramite l'app di Team Music. Grazie all'app ho avuto modo appunto di scoprire, avere Ed Sheeran a casa mia e poi appunto di andare stasera alla terrazza Aperola a sentirlo cantare live. Grazie a Team e Team Music ho avuto questa splendida possibilità. Non ci sarebbe stato Ed a casa mia senza di loro. È stato chiesto agli utenti residenti a Milano di scrivere la propria dedica su un foglio, di fare un selfie e di condividerlo sui canali social ufficiali di Team Music, inserendo le menzioni Team Music Ed Sheeran e naturalmente l'hashtag Ed Sheeran scegli me. L'artista ha regalato un piccolo live direttamente a casa del fan, che ha dimostrato maggiore originalità e creatività. So che è Ed ha i miei gatti e avendo io un gatto ho deciso di renderlo partecipe, diciamo è lui il protagonista della foto. Quindi ho pensato di renderlo un pochino ironica facendo vedere mai che canto e lui non è proprio di sentirmi cantare, quindi deve venire qui a salvare Woody, il mio gatto e appunto venire qui a casa a cantare. So we're going to Sylvia's house today, she's been amazing, we're going to play some songs for her and her friends and yeah, follow us and see what happens. Good evening. Grazie Ciao Ciao Grazie Ciao 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 Avere avuto qua a casa mia, live, un artista come Ed è stata una cosa eccezionale, fantastica E' solo for you I think, yeah, I think it's good to have a balance of things, you know, you can play big shows but it's good to sometimes go and do intimate things like what we're doing today or playing in a fan's living room Yeah, I think it's just, it's healthy to have a balance to keep yourself and other people interested La terrazza Aperol in Piazza Duomo a Milano ha ospitato invece l'evento Ed Sheeran Exclusive Showcase ad accedere i soli clienti team che all'ingresso hanno mostrato il proprio smartphone con l'app Team Music con l'opportunità di portare ognuno un accompagnatore Un meccanismo d'ingaggio che ha contribuito ad aumentare la brand awareness di Team e Team Music stimolando gli utenti a usufruire e scaricare l'app sul proprio cellulare Qu'amииi in Piazza Duomo a Milano L'웠ati qui chendeva un camminatore from the top there e sizzitati bico e Maybe we can get down now Hey, I'm Ed Sheeran, please listen to my music on Tim Music